La vita deve essere vissuta come un dono, era questo il suo motto che non perdeva mai l'occasione di ripetere per incoraggiare tutti. Lei, Rosanna Gambone, la piccola grande guerriera che da ieri ha smesso di combattere la sua battaglia contro l'osteogenesi imperfetta, una malattia genetica rara della quale era affetta fin da piccola. Rosanna Gambone, 58 anni, originaria di Montella, è stata scrittrice, attrice, impegnata da sempre nel sociale, anche come testimonial di Teleton, ma era soprattutto un esempio di tenacità, ostinazione, esuberanza ed altruismo, grazie al suo immenso cuore. Della sua vita ha fatto parte anche il cinema, nel 2020 il debutto sul grande schermo, coprotagonista del film Gli Angeli delle Donne di Emanuela del Zompo, conquistando il red carpet alla 77esima mostra del cinema di Venezia. L'esperienza abbissata nel cortometraggio La leggenda di Caira, tratto dal fumetto Caira, la principessa guerriera. Rosanna era sempre in prima fila, in occasione della camminata rosa, per le manifestazioni di Teleton e tutte le iniziative di beneficenza dove è necessario cuore e impegno, lei era presente e da oggi la sua assenza si avvertirà come un grande vuoto. Rosanna Gambone è morta all'ospedale Moscati di Avellino dopo alcuni giorni di ricovero nel reparto di rianimazione. La notizia della sua morte in pochissimi minuti ha fatto il giro dell'Irpinia, sollevando tanto dolore nelle persone che l'hanno conosciuta. Tutti la ricordano sulle pagine social come una donna eccezionale, unica nel saper trasmettere il senso autentico della vita. Rosanna Gambone, la piccola grande donna irpina che ci ha insegnato che la vita è bella e va vissuta anche per superare gli ostacoli, a 58 anni ha smesso di combattere, ma resta per sempre il suo insegnamento. La vita deve essere vissuta come un dono. Grazie Rosanna.